Ciao Andre! Ciao Giorgio Tave! Mi è venuta un'idea! Facciamo un webinar su social search ed il più uno di Google? Ottimo! Ragazzi, cosa state tramando lì? Niente! Il Tave vuole fare un webinar su social search e il più uno di Google! Ma è una cosa utile per le aziende e i liberi professionisti? Certo! Questo è il futuro di Google! E non si può creare un progetto web senza pensare a questi aspetti! Presto i clienti inizieranno a chiedere informazioni su questi argomenti! Bisogna muoversi in fretta! Social search ed il più uno di Google potrebbero diventare importanti come oggi sono le mappe! Che ne dite? Ok! Per me è una cosa utile! Facciamola! Ma sbrighiamoci perché dobbiamo partire in fretta! Siete pronti a partire con noi? E allora continuiamo!